Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento speciale di New Insurance dedicato a come accelerare la digitalizzazione del settore assicurativo. Dopo un'introduzione da parte di Simone Ranucci Brandimarte per l'Italian InsurTech Association di quello che è la view del mercato attuale, addentriamoci con i prossimi tre ospiti su quello che sarà e deve essere l'adeguamento dell'offerta, l'adeguamento tecnologico e anche quello normativo. Ho l'immenso piacere di avere qui con me Gerardo Di Francesco, founder e managing partner di Wide Group, Gianluca De Cogulli, eccoci Gerardo. Io introduco anche gli altri giusto per dare poi dopo inizio con lei. Gianluca De Cobelli, founder e CEO di Yolo Group, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. E Andrea Polizzi, partner dello studio legale d'Argenio Polizzi e Associati. Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci, così vi abbiamo introdotto. Gerardo, partiamo con lei. Innovazione tecnologica e mercato assicurativo. Già abbiamo fatto qualche accenno con appunto Simone Ranucci-Brandi Marte. A che punto sono le competenze del mondo assicurativo, così come anche quelle del consumatore? Allora, il tema delle competenze è un tema chiave. C'è proprio un osservatorio, che è l'osservatorio delle competenze digitali, che registra un gap molto importante sul mercato. Parliamo di 5100 laureati con competenze ICT, oggi in Italia, all'anno circa. Questo è un dato del 2019. Questi 5100 laureati coprono un fabbisogno che è pari al neanche il 35% del sistema paese-Italia. E sicuramente l'industria assicurativa ha bisogno di essere più attrattiva per questi talenti, perché parliamo appunto di laureati che devono andare a coprire il fabbisogno ICT nazionale. Quindi c'è anche un'altra sfida che si gioca non solo sulla acquisizione e l'attrazione dei talenti, ma anche sulla riconversione delle risorse, delle risorse umane. L'industria assicurativa è un'industria che impiega centinaia di migliaia di persone e anche per evitare fenomeni di neoluddismo verso l'innovazione è molto importante che tutti gli stakeholder investano in formazione tecnologica delle risorse per liberare poi queste risorse dai lavori più monotoni applicando processi di intelligent process automation, robotic process automation, perché appunto proprio il tema robot, anche la parola robot del romanzo di Chapek mi sembra, deve essere un tool, un qualcosa che deve liberare dai lavori monotoni. IA peraltro ha una priorità assoluta su questo tema delle competenze e della formazione e peraltro stiamo anche studiando un progetto pilota di job placement per dare agli associati un servizio di placement e di talenti tecnologici e ovviamente gratuitamente. Questo è un progetto che andremo a sviluppare nei prossimi mesi. Un progetto di grande interesse anche perché come sapete Le Fonti TV è molto vicino al mondo delle char, al concetto di competenze e quindi di risorse e quindi a maggior ragione dovremmo tenerci aggiornati anche su questo progetto. Passerei a Gianluca Decobelli, sempre rispetto al rapporto con l'innovazione e con la tecnologia. Prima anche si diceva di come la penetrazione delle polizze digitali che non siano auto sia veramente dell'1%, quindi molto molto ridotto. Secondo lei è più un problema di domanda e o di offerta e le compagnie sono pronte a sperimentare? Grazie, ma sicuramente come sempre è un problema superverto su entrambi i fronti. Lato domanda, il consumatore italiano non è così propenso a ricercare l'assicurazione tutti i giorni, così come magari su internet cerca il viaggio o cercava il viaggio, magari riprenderà a cercarlo quanto prima. E conseguentemente la domanda va sollecitata, va stimolata, ma come stimolare una domanda evidentemente con una offerta corretta. Quindi prevalentemente dal mio punto di vista il problema sta nell'offerta, sta nella capacità di portare sul mercato al consumatore digitale, ma io direi tendenzialmente al consumatore dei prodotti che stiano dentro un'offerta assicurativa integrata in linea di soddisfare le esigenze del consumatore, come dicevo prima in alcuni casi anche di stimolarle. Questo vuol dire che bisogna lavorare molto sull'offerta, noi come associazione stiamo creando proprio dei gruppi di lavoro per far sì che si creino i presupposti per cui il mercato inizi a riconoscere e ad apprezzare anche gli sforzi che si stanno facendo per andare a costruire un'offerta assicurativa innovativa, ovviamente in linea anche con la spinta che c'è stata da questa pandemia, perché se ne parla sempre con un'accezione negativa, come non può essere diversamente, ma qualche effetto positivo in termini di accelerazione di un cambiamento nei consumi dei consumatori, ma anche nelle strategie delle imprese sicuramente c'è stato, quindi c'è sempre una maggiore attenzione a digitalizzare l'offerta e questo vale anche nel mondo assicurativo, quindi sicuramente le compagnie molto più di prima sono disponibili a sperimentare nuove modalità di offerta, dove per modalità di offerta noi intendiamo tanto prodotto, quindi dei prodotti che siano diciamo in grado di soddisfare esigenze anche diverse da quelle che sono gli ambiti obbligatori, per cui parliamo appunto del non auto, ma ci sia anche un canale distributivo o più canali e più modalità che siano sempre appunto in linea con l'esigenza del consumatore e poi ci sia anche un servizio al cliente, non dobbiamo dimenticarci questo. E fin tanto che anche tutta l'industria assicurativa non pone al centro il consumatore, sfruttando peraltro le tecnologie digitali che è stato facendo anche prima, credo che la domanda continuerà a essere latente, quindi per stimolarla ci va una nuova offerta. Ecco, stavamo anche vedendo insomma proprio questo ecosistema dell'innovazione e dell'insurtech all'interno ovviamente del mondo assicurativo e rivolto anche al consumatore. Abbiamo parlato di adeguamento tecnologico, di adeguamento dell'offerta, con l'avvocato Andrea Polizzi vorrei parlare dell'adeguamento normativo in quanto la spinta necessaria all'innovazione deve però coniugarsi con quella che è la normativa e quindi vorrei chiedere all'avvocato Polizzi qual è, a che punto siamo con il regolatore e può effettivamente anche lui agevolare, accelerare questa trasformazione? Buongiorno, il tema normativo è un tema centrale per l'insurtech, lo è perché l'innovazione deve essere ovviamente accompagnata da regole che consentano agli operatori di mercato di muoversi in un contesto sicuro di regole certe e qua è proprio la sfida nel senso che laddove c'è innovazione, laddove c'è tecnologia, c'è insurtech, le regole non sempre sono già pronte per essere, per seguire l'innovazione e quindi la sfida è proprio questa, di trovare un equilibrio tra l'innovazione e l'audacia dell'innovare anche da un punto di vista normativo, regolamentare e al tempo stesso avere un equilibrio poi con quelle che invece è la tutela del consumatore, la sicurezza, la parte dove l'innovazione non può certo andare a scapito della trasparenza, della qualità del prodotto, del value for money. Una bella sfida per noi giuristi ed è molto interessante in seno all'associazione questa parte di aiutare anche il mercato a evolvere, anche il mercato dei regolatori, il mercato legislativo, quindi in questo senso nuove regole devono seguire un approccio che sia capace di coniugare efficienza e audacia da una parte e prudenza dall'altra. In questo l'associazione si sta muovendo proprio per creare dei tavoli comuni con i soggetti interessati, il ministero, l'IVAS e altri soggetti e regolatori interessati per far sì che si possa avere un ambiente dove sperimentare l'evoluzione normativa e arrivare a un tavolo condiviso di regole anche tra operatori del settore insurtech, proprio perché la possibilità quindi di innovare in un ambiente anche però sicuro. Questa è un po' la sfida e per cui è una sfida che per un giurista è particolarmente interessante e riteniamo che ci siano degli spazi importanti di crescita sotto questo lato e stiamo lavorando sui tavoli proprio per garantire uno sviluppo audace da una parte ma regolato, normato dall'altra. Audace e regolato nel contempo. Io vorrei restare con lei, Avvocato Polizzi, perché proprio prima De Cobelli citava come questa contingenza ai noi dell'emergenza Covid-19 abbia però accelerato la trasformazione digitale. Un esempio anche concreto è stato quello relativo alla firma digitale e su questo anche dal punto di vista del regolatore c'è stata un'accelerazione. Ci può dare qualche informazione in più e sempre su come IA si sta muovendo anche su questi fronti? Certo, volentieri. Uno dei temi centrali è proprio quello delle firme elettroniche, quindi della possibilità di firmare a distanza i vari documenti contrattuali, le proposte, i documenti di polizza o la continuità di un rapporto e che forma utilizzare. La regolamentazione vigente al momento è abbastanza rigida nel permettere a tutela del consumatore solo le forme più avanzate, firme elettroniche avanzate, firme digitale. Gli spazi di apertura sono proprio nel senso di dire che ci può essere tutela del cliente anche con forme più efficaci, più efficienti di firma, più semplici da utilizzare e in questo senso la pandemia ha fatto sì che ci sia stato un intervento normativo che consentiva nel periodo di urgenza di firmare con una semplice mail di conferma della volontà di sottoscrivere e allegando la copia del documento identità. Queste o altre forme più semplificate di sottoscrizione elettronica possono essere un elemento di ulteriore innovazione, appunto coniugando come si diceva prima però la sicurezza. Un tema fondamentale in questo è l'identità digitale, la possibilità di identificarsi a distanza. L'associazione si sta muovendo con forza nel senso di valutare e promuovere modalità di identificazione a distanza come speed che già sono nel sistema e di poterle trasversalmente applicare anche al mondo assicurativo e poi per il mondo finanziario al mondo bancario ovviamente potrebbe essere la stessa applicazione perché speed consente di avere un sistema diffuso, efficiente, trasversale di identificazione a distanza e quindi con dei vantaggi importanti a livello della fattibilità e poi delle forme di sottoscrizione. Per cui Covid ha anche necessariamente portato tutti a dover valutare forme alternative, non in presenza e questo può aprire degli spazi ulteriori di manovra su un sistema firme che sia il più possibile user friendly e al tempo stesso garantisca però tutte quelle necessarie forme di tutela del cliente sull'identità digitale, sul evitare furti identità digitale. Speed per l'associazione è una delle possibili e più efficaci forme quindi su questo stiamo lavorando per valutare le applicazioni e la promozione del sistema. Ottimo, Decobelli a proposito sempre di questa accelerazione, si parla di polizze on demand, ecco come si può accelerare la penetrazione di queste polizze e le chiedo fin da subito che cosa può fare l'associazione per incentivarne la penetrazione? Magari proviamo a qualificare un attimo il concetto di polizze on demand perché hanno un'accezione molto ampia secondo noi, in particolare lo avranno sempre di più in questo contesto più digitale perché consente evidentemente di usare maggiori informazioni e di essere più efficaci nell'andare a targetizzare l'offerta. Quindi on demand ricomprende le polizze che vengono definite micro, polizze che vengono oggi definite pay per use, quindi col concetto pago solo quando uso, piuttosto che le polizze che vengono definite recurrent. Quindi non escluderei peraltro tutto ciò che viene in apertura digitalizzato. Quindi oggi queste polizze sono prodotti nuovi sul mercato, non molto disponibili, evidentemente quindi hanno bisogno di essere spinte e sostenute da una distribuzione diciamo sempre più ampia. Quindi cosa si sta facendo su questo fronte? Perché ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero salvo l'auto, la penetrazione delle polizze nel mondo danni è bassissima, non è bassissima solo quella delle polizze digitali. Tutte le polizze danni, escluso l'auto, hanno una penetrazione in Italia decisamente inferiore a quella che è la media europea. Questo vuol dire che c'è da lavorare nell'attrarre nuovi consumatori, nuovi target nel mercato. Come lo si può fare? Le polizze on demand, quindi l'offerta digitale, è un modo per arrivare a quel tipo di finalità. Tant'è che tutte le ricerche che abbiamo fatto come Iolo ci dicono che tutte le polizze nuove emesse per coprire danni legati allo sport, per oltre il 95% di questi consumatori che hanno sottoscritto le polizze, non avevano mai sottoscritto un prodotto di copertura dell'RC professionale durante la pratica dello sport. Così come i sottoscrittori di polizze sia legate alla casa, sia legate alla mobilità, sono tutti nuovi sottoscrittori di polizze in senso lato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si sta creando un nuovo mercato, quindi le polizze on demand o digitali, possono aiutare ad avvicinare al mercato assicurativo nuovi target. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti che il mercato è sottopenetrato perché c'è un problema, sì di domanda, non prevalente di offerta. Ecco quindi che lavorando sull'offerta sia convinti di riuscire ad aumentare la penetrazione. Come associazione, cosa vogliamo fare? Come associazione dobbiamo sicuramente lavorare a supporto di questo trend, creando i presupposti per cui i diversi soggetti che possono contribuire a sostenere questo sforzo in ambito distributivo, siano tutti coinvolti nell'andare nella stessa direzione. Quindi come associazione noi parliamo con compagnie, abbiamo da sempre aperto anche ad altri player che operano nel mondo legato alle assicurazioni, quindi sicuramente ci sono intermediari, quindi broker, agenti, ma perché no società diverse che vedono nel prodotto assicurativo, pensiamo alle telco, alle utility, vedono, perché ovviamente ha tutto il banking anche, vedono il prodotto assicurativo, la possibilità di sviluppare un'offerta innovativa e quindi fare quelle cosiddette attività di cross-selling o up-selling verso la propria clientela. Un'attività che risulta particolarmente cruciale. Io chiedo scusa ma purtroppo il tempo ai noi è un po' tiranno, per cui dobbiamo un attimo restringere, ma ovviamente l'invito è magari ad approfondire ulteriormente anche i temi in un secondo momento. Di Francesco, torno da lei, a questo punto dobbiamo essere un po' sintetici. Due temi vorrei affrontare con lei. Quello della digital transformation, a cui abbiamo accennato, che sembra un po' vedere una coniugazione sempre più forte tra tecnologia di frontiera e il ritorno alla centralità del dato. E poi all'interno di questa digital transformation e innovazione, il ruolo della diversity, cioè delle donne. Perché anche su questo fronte voi state facendo diverse iniziative ed è un qualcosa di assolutamente meritorio, ma che poi corrisponde a delle caratteristiche e competenze, come si diceva prima, reali e constatate. È così? Bene, parto dalla fine. C'è uno studio molto interessante della Boston Consulting Group, si chiama How Diversity Leadership Teams Boost Innovation, che mostra una correlazione evidente tra innovazione nelle aziende e diversity. Questo perché evidentemente innovazione è è contaminazione, è progresso, è evoluzione. E sono due processi simbiotici e sinergici. E si collocano nell'ambito di un processo ancora più grande di apertura sociale, culturale, nella governance delle aziende. Questo processo, quindi questa parola diversity, che poi non si capisce viene diverso da cosa, se da un uomo bianco, eterosessuale, è un concetto sempre più diffuso in occidente. In Italia, ahimè, c'è una situazione drammatica in generale, che nell'industria assicurativa è catastrofica, perché in Italia il tema diversity è un tema di uguaglianza di genere, è un tema limitato al tema di genere, dove vede la posizione della donna, specialmente l'industria assicurativa, veramente ai margini. Quindi una donna oggi nell'industria assicurativa deve fare il triplo della fatica di un uomo per affermarsi in una posizione. Io percepisco e registro ancora tantissimo maschilismo. Quello che auspico è sicuramente una rivoluzione immediata nell'industria, fatta di scelte radicali, drastiche, istantanee, e spero che la carica invece di gender equality, di diversity, che l'industria tecnologica porta dentro di sé, possa contaminare in tempi molto molto rapidi l'industria assicurativa italiana. Per quanto riguarda il tema della digital transformation, la tecnologia in sé sono le più svariate, cioè oggi mandiamo robot su Marte, no? Quindi non penso che l'industria assicurativa abbia un tema di scoprire nuove tecnologie, è un grosso tema di applicare le tecnologie, no? E ci sono tecnologie di frontiera che vengono chiamate dark technologies, quindi sono la blockchain, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i computer quantici e tecnologie più consolidate, come non chiamate smart technology, che sono social mobile, analytics e cloud. Sicuramente ci sono tanti trend all'interno dell'industria assicurativa e tanti use case di applicazione di queste tecnologie, però affinché funzioni l'ecosistema bisogna ritrovare la centralità del dato, cioè parliamo comunque di un'industria che ha centinaia di anni, dove sono stratificati nel tempo dati di tutti i tipi, quindi uno dei primi passetti verso la creazione, soprattutto al funzionamento dell'ecosistema, è quello di ripartire dal dato, dalla standardizzazione dei dati, dalla condivisione dei dati e dal mettere d'accordo gli stakeholder dell'ecosistema su protocolli tecnologici di scambio dati comuni. Su questo internamento dell'associazione c'è un vertical specifico, si chiama di digital operation, che mette insieme quelle che sono le principali esperienze italiane in ambito di standardizzazione dati, che sono il progetto SHARE, il progetto RUSHLICON e il progetto di AIBA Digital. Quindi sì, da un lato è un esperimento di un laboratorio di applicazione di tecnologie, ma dall'altro deve essere anche un cantiere in cui si costruiscono solide basi e queste solide basi non possono che essere fatte da dati. Un cantiere appunto poggiato su solide basi, che sono i dati. Siamo veramente in chiusura, ma ci tengo, anche se solo per un minuto, con l'Avvocato Polizzi a toccare un tema importante, ovvero quello dell'home insurance. Come è avvenuto con l'home banking? Adesso si parla anche di home insurance e per riagganciarci a quello che si diceva anche prima, vuole essere un'opportunità per tutti i player, anche per i distributori. È così? L'home insurance è un'ulteriore sfida che si pone, le aree riservate che le compagnie sono tenute dal primo luglio a mettere a disposizione dei loro clienti, in modo che i clienti possano operare sul contratto assicurativo anche a distanza per tutte le compagnie assicurative da anni e vita. Ed è una sfida perché è una sfida che porta le compagnie e i distributori a interrogarsi sull'utilizzo delle aree riservate, quindi non solo nel senso più tradizionale come siamo abituati all'home banking, poter fare alcune operazioni a distanza, ma proprio che diventi parte di un ecosistema e di un'esperienza del cliente che deve coinvolgere necessariamente anche il distributore, perché la compagnia da sola rischia comunque di avere uno stacco rispetto al cliente finale. Quindi è un'opportunità per le compagnie di relazione, è un'opportunità per i distributori assicurativi di essere coinvolti, è un'opportunità per i clienti di avere un'esperienza a distanza sempre più ampia e con possibilità di scelta. È un'altra delle opzioni e delle possibilità che si aprono sul mercato assicurativo da collegare anche a tutto il tema della PSD2 e dei pagamenti a distanza che tanto sviluppo ha avuto ultimamente, quindi è una bella sfida che sia lato operativo, lato tecnico, lato legale, su tutto il tema della consulenza assicurativa ci troviamo a affrontare e stiamo affrontando con le varie declinazioni. Una sfida quindi è un'opportunità del sistema che come abbiamo potuto sentire dai nostri ospiti è particolarmente dinamico e grazie proprio alla sinergia, all'ecosistema che si sta creando attraverso l'associazione, tanti vertical, tanti snodi cruciali. Io ringrazio tantissimo i nostri tre interlocutori, Gerardo Di Francesco, Gianluca Decobelli, Andrea Polizzi per essere stati con noi e insomma l'invito a un prossimo approfondimento. Adesso qualche minuto di pubblicità e poi riprendiamo con altro tema cruciale ovvero quello degli investimenti nel settore insurtech. A tra poco!